Amici rossoneri un saluto da questa nuova location, non c'è un muro, non ci sono finestre ma c'è il paesaggio, forse non intravedete però insomma si sta bene. Buona giornata a tutti, iscrivetevi al canale se lo avete ancora fatto cliccando qui dove c'è la bandiera rossonera, è gratuito, vi arrivano le notifiche, se attivate anche la campanella non vi perdete nulla sul mondo del Milan. Siamo quasi 9.000, chissà oggi o domani riusciamo ad arrivare a 9.000 e poi puntiamo i 10, chissà altri risultati. Ci avviciniamo anche alla partita con la Juventus, sempre di prestigio, prima di capire un po' quale può essere la formazione e di parlare del tema legato a Pioli e Ragnic con qualche sfumatura di calcio mercato, voglio parlare però di alcune situazioni un po' spinose legate alle conferme rinnovi di diversi giocatori. Il primo è Chiare, non è una questione spinosa perché lui sta facendo molto bene, anche l'altra sera con Coppia Cormagnoli davvero è una sorpresa importante, è arrivato un po' in sordina, ci sta togliendo tante soddisfazioni, con lui in capo il Milan non prende gol o ne prende pochissimi, è mancato infatti con la spalla. Il riscatto di 3 milioni e mezzo è da esercitare assolutamente però attenzione perché mancano pochi giorni, si può esercitare entro il 15 luglio. Tradotto, sveglia, 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 lo dico la dirigenza del Milan perché se non lo riscattano commettono un errore clamoroso, mi rifiuto di credere sarà così, Chiare deve essere confermato, può restare al Milan per diversi anni secondo me, può fare anche il titolare l'anno prossimo in Coppia Cormagnoli. I due lavorano insieme molto bene, comunicano molto bene, come ha detto anche Pioli, sulle palle alte con Chiare e il Milan hanno una risorsa importante ed è anche uno che dà le azioni spesso sventaglia verso la tre quarti e ha un piede, devo dire, buono, oltre che un'esperienza che al Milan in campo manca. Quindi Chiare deve essere riscattato, voglio pararvi poi anche di Celanoglu, scadenza 2021, io ero molto scettico, devo ricredermi perché sta facendo davvero bene, tanta quantità, corre come un matto e se diventa determinante anche in zona gol, allora capiamo perché Ragnic voglia puntare su di lui l'anno prossimo. Magari sempre in un 4-2-3-1, quest'anno ha fatto 5 reti, con Ragnic se viene ulteriormente valorizzato può migliorare ed essere davvero un giocatore determinante. Scadenza 2021, gli va rinnovato il contratto, credo che tra settembre e ottobre verrà affrontato il tema, ha qualche offerta dall'estero, però mi aspetto che venga rinnovato e che resti. Quindi con lui il Milan può decollare, visto che forse sentete anche un aereo in sottofondo. Molto bene, il numero 10 sulla spalla, chiaramente non è forse quello più adatto, però è una bella certezza in questo Milan. Nel mio Milan ideale farebbe la riserva ai titolari, però magari potrebbe fare anche il titolare l'anno prossimo e migliorare con la squadra di Ragnic. Veniamo poi a Pachetà, Pachetà non è un discorso di rinnovo, di mercato o meno, il Milan lo vuole valutare nelle prossime partite, devo dire che le ultime due le ha fatte molto bene e se continua così, devo dire che potrebbe meritarsi una conferma l'anno prossimo. Non lo vedo il prototipo del giocatore di Ragnic, sinceramente, però bisogna fare di necessità virtù e provare a valorizzarlo. Quindi se continua così come sta facendo nelle ultime partite, può meritarsi la conferma, altrimenti no via a titolo definitivo perché non arriveranno offerte visto che è stato pagato molto e da bilancio ancora per tanti milioni, altrimenti prestito. Però davvero Pachetà potrebbe diventare una piacevole sorpresa. Pachetà finalmente gioca di prima, non tocca la palla due o tre volte, non perde il tempo della giocata, è più concreto, meno brasiliano, più europeo e quindi può anche lui dare delle soddisfazioni, con cautela perché una Rolandina non fa primavera, ha fatto due partite buone e tante altre negative. Però, però, chissà mai che può esserci anche da parte sua una rinascita o una nascita definitiva. Per quanto riguarda Salemakers, poi, lui sta contribuendo comunque a segnare. Non segna lui, non ha tra i piedi i gol, però ci mette lo zampino per il curatore di gore nell'ultima partita, ha dato il là precedentemente all'azione del gol anche ad esempio contro la Roma, anche con la spalla è stato determinante. Tanta quantità, la qualità deve migliorare, però a 7 milioni, secondo me, il Milan ha fatto una buona operazione targata, ricordiamo, Moncada che lo ha riscattato, in totale è stato pagato 7 milioni di euro a 21 anni, ricordiamolo perché spesso ci dimentichiamo, il Milan ha un giocatore di 21 anni che tutto sommato lì ci può stare. E poi, negli ultimi giorni, si è sparsa la voce di un possibile ingresso di Ragnic subito, lo ha scritto Franco Ordine, pre-partita contro la Lazio, poi il Milan ha vinto, indipendentemente da questo risulta che non sarà così, che Ragnic sarà annunciato come allenatore, come abbiamo detto qualche giorno fa, soltanto a stagione conclusa, con Pioli che andrà via, ma si sta scatenando il dibattito, Pioli deve rimanere, molti sostengono questo, a maggior ragione dopo la bella vittoria contro la Lazio, dopo il periodo post-lockdown, in cui il Milan le ha vinte tutte tranne il pareggio contro la spalla, in maniera anche un po' sfortunata. Personalmente sento sempre dire che è una bravissima persona, non fa mai polemica, però io preferisco avere uno che magari non è il miglior amico, ma che poi ti fa vincere, uno meno simpatico, ma che poi ti fa vincere. Se si dice troppo è una brava persona, non deve fare l'educatore o il catechista per quanto mi riguarda, ma bisogna vincere. È vero che post-lockdown il Milan sta facendo bene, anche perché ha una condizione atletica buona, però voglio ricordare anche che il Milan ha fatto tante partite negative, me le sono segnate, il mio assistente che poi vedrete tra poco, me le ha segnate, Milan-Lecce 2-2 in casa, risultato negativo, ha perso con la Juve, con la Roma e con la Lazio, voi mi direte, vabbè ci sta di perdere, per carità, 5-0, 5 pere con l'Atalanta, poi 0-0 in casa con la Sampe, guardate dov'è adesso la Sampe in classifica, le 4 pere prese dai cugini nel secondo tempo, colpa di Pioli che non ha portato le giuste modifiche alla squadra, lo 0-0 interno con il Sassuolo, la sconfitta interna con il Genoa, il 2-2 con la Spal, magari sfortuna questa non la debitiamo esattamente a lui, però in generale vi ho elencato diverse partite che descrivono che il Milan ha comunque avuto diversi problemi, segnalo che prima dell'arrivo di Pioli il Milan era a 4 punti della Champions League, dopo poche partite, oggi il Milan è a tanti punti in più dal quarto posto, ha fatto bene nella seconda parte, ha isolato comunque la squadra dai vari problemi e dalle varie voci di calcio mercato, e non è stato semplice, però nel mio Milan voglio un valore aggiunto, e Pioli per quanto mi riguarda non è un valore aggiunto, ma è un normalizzatore, è termine, è un concetto che lui comunque rifiuta, voglio sentire anche la vostra, capire da che parte state, personalmente l'anno prossimo rischio un po' di più con Ragnic, però vedo un progetto che se va bene può dare soddisfazione, non vedo per intenderci il Milan l'anno prossimo competere per il quarto posto, per la Champions League con Pioli, poi dipende anche dalle altre, però ecco, spesso ha sbagliato a gare in corso, ricordo delle letture sbagliate, dei cambi non azzeccati, in generale se si dice è una brava persona non si dice è un bravissimo allenatore, nessuno dice Pioli è un bravissimo allenatore, un motivo ci sarà, capisco che dopo gli ultimi risultati rischio di essere impopolare, però preferisco dire le cose come penso, so che molti di voi comunque saranno d'accordo. Per quanto riguarda il calcio mercato, vediamo le prossime evoluzioni, evoluzioni, forse a breve vi dirò un nome nuovo, non nuovissimo perché comunque è stato già accostato qualche mese fa, però un nome intrigante perché sto orecchiando qualcosa di interessante, ma vorrei convolgere il mio assistente per avvicinarci anche alla sfida con la Juventus, vi annuncio che domani avremo anche un video inedito perché avremo Luca Momblano, un video Milanello, voi, noi, contro Juventibus, loro, il loro canale YouTube, sarà qualcosa di molto interessante, saremo idealmente sul ring e vi invito a vederlo e condividerlo sui vostri social, anche questo video, così ci aiutate a crescere. L'assistente può venire, quello qui l'avete visto anche nelle scorse puntate, Simone Marchiato Milan, con i suoi acquisti contribuirà ai prossimi acquisti rossoneri, magari migliori rispetto a Calulu, ci spieghi quale può essere il Milan anti Juventus, la formazione caro Simone? Alzando un po' la voce perché c'è un po' di vento. Donnarumma, Teo Hernandez, Romagnoli, Chier Conti, Benazer Krunic. No, Krunic, Krunic è il tuo idolo, così come quello del direttore Fabio Ravezzani, ma gioca che sì, dai. Va bene. Hai fatto lo scherzetto, poi? Sì, Cialanoglu, Salamikers, Rebic e Ibrahimovic. Questo potrebbe essere l'undici, sarebbe fuori Paquetà, sarebbe fuori Buonaventura. Io, sinceramente, rispetto alla formazione che tu proponi e sei sapiente perché sei un competente, i rossoneri sono tutti competenti, non sono convinto di Salamikers, potrebbe giocare uno tra Buonaventura Paquetà al suo posto, però è aperta la candidatura di Salamikers. Vuoi ricordare tu che cosa devono fare alla fine di questo video? Mettere il pollice in su, niente pollice in giù, tante visualizzazioni e accendete la campanella. Accendete la campanella, iscrivetevi al canale, anche perché è gratis, non vi perdete nulla, è vero? E poi vorrei dire una cosa sulla partita del Milan. Sì? Ieri contro la Lazio ha giocato una buona partita. Sì, sì, sì. Ah, l'altro ieri, non mi ero neanche ricordato. E tu però a rialetto l'hai vista il giorno dopo, vero? Sì. Perché comunque giocano un po' tardino. La cosa più bella che mi è piaciuta è stato il gol di Salamoglu da fuori area. E avete visto anche, e se non l'avete ancora vista, la mia reazione in studio. L'ultimissima cosa qual è, Simone? Che sono contento della, quella, quella azione di Tio Hernandez che li ha scartati tutti. Peccato che non l'ha finita. Peccato che l'ha presa di mano un po' stracoscia, allora, dopo l'ha recuperata la Lazio. Però, però dai, molto bene, molto bene. Sì, molto bene. Simone, ci vediamo presto, ci terai compagnia ancora. Futuro giornalista, segnatevi il nome Simone. E allora mi raccomando, pollici in su, no pollici in su perché lui sennò si arraggia. Guardate la mia formazione. Eccola qui. Grande traprendente Simone, un saluto a tutti. Saluta. Ciao, ci vediamo alla prossima. Iscrivetevi. Ciao.